Allora, amico mio, lo scorso video dei dropper dei super cattivi è piaciuto veramente tantissimo, lo sai? Ma certo che è piaciuto, c'ero io, è normale, giusto? Beh, aspetti, te ho due pacche di uno schieno, meglio... Oh, mi è andato di traverso un kendall. Mamma mia, allora, vediamo. Oggi ci troviamo... No, 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 oh, non si può scappare. Non si può scappare da questo posto. Fammi scappare, non voglio farlo il dropper. Guarda chi c'è lì, c'è il dropper più stupido del mondo, il tuo. E perché il tuo non c'è? Il mio non c'è perché guarda, guarda che cosa c'è, te lo ricordi? Ah, lo youtuber misterioso. Io per ultimo c'è scritto. E questo video, se non arriva 10.000 mi piace, succederà una catastrofe. Bella faccia esploderà. Bella faccia esploderà, quindi mi raccomando, in mille pezzettini voi dovete lasciare subito tantissimi mi piace e discrivervi a questo canale. E disiscrivervi a quello di Kendal, ok? No, 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 cosa? No, cosa? Cosa ho detto? No, cosa? Cosa? Niente. Allora, ti ho portato... Sono lo youtuber misterioso. Ti ho portato qui in questi dropper perché ci sono tantissimi dropper degli youtuber. Guarda quanti e scegli te. Ma non sono difficili, spero. Ma che ne so, mica li ho fatti io. Beh, io voglio iniziare dal mio. Dal tuo? Che gocentrico, ragazzi. Ok. Dropper di Kendal. Seleziono lo spawn point. Spawn point, non andare su. Fammi vedere, fammi vedere. Va lì sotto, stupido. No, ma sono stupido, lei. Oh mio Dio, ci sono le spade dell'infinito. Hai visto che bella, le spade dell'infinito. Oh, oh, oh. Dimmi che c'è anche l'elmetto in ferro. Stupida, spada dell'infinito. Sono morto sopra di lei. Ci sono anche gli elmetto in ferro. È bellissimo questa mappa. No, no, aspetta. Ti devo chiedere una cosa. Che cosa? Ma ce l'hai già fatta, te? Derto, sono qua già. No, mi prendi in zi. No, mi devi dire come si fa, Kendal. Come come si fa? Devi essere Kendal per poterlo completare. Non so un dubb come te. Mamma mia, ma quanto era semplice. Chi è il vero Kendal? No, aspetta. Ma hai visto che belle le spade dell'infinito? Bellissimo. Kendal. Che è il vero Kendal? Kendal. Ma ragazzi. Kendal. Tutto be... Ok, io me ne vado. Ci sono troppi Kendal, ragazzi. No, sono io. È il mio peggior incubo. Troppi Kendal, troppi Kendal. Troppo il più bello di sé. Allora, io darei... Cosa hai detto? Non ho capito niente. Non ho mai visto un dropper così bello. È troppo bello. 10 su 10. 10 su 10. Allora, proviamo quello di Roby, dai. Andiamo al fila. Sarà pieno di orsi polari. Allora, spawn point. Oppure ci sono quelli di Roblox adesso. Calma, calma, calma. I fiocchi di neve. Ma porca miseria, non ne posso già più con questa neve. Va di sotto, stupido, millepiedi. Oh, 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 oh. Quasi, eh. Qua, ci sono gli orsi polari, li ho visti. Te la sei fatta sotto. Va di sotto, lasagna. Guarda, guarda, che ora ce la faccio. Allora, non è facilissimo, eh. E ce credo che non è facilissimo. Guarda quanti blocchi ci sono. Non è facilissimo, stupido. Cavolo stai facendo? Che ho già e così tanta rabbia nel corpo, bella faccia. Che ti ho fatto? Ho la rabbia, ho la rabbia, Kendall. Hai la rabbia, sei un animale. Ti voglio buttare di sotto, sta fermo. Mamma mia. Dovevo portare dal veterinario. Sono un animale rabbioso. Vieni qui, ti spacco le ossa. Vieni. Dove sei? Come giù? Qui, qui, sono qua. Stai barando. No, sto barando, ma hai buttato. No, no, no. Ecco, cani e muori. Mamma mia. Pollo. Allora, aspetta, aspetta. Dobbiamo ragionare insieme. Guardami. È vero, bisogna trovare una via di uscita. Guardami. Non spinzermi, però, eh. Non spinzermi. Dov'è l'acqua? Allora, non è qua. Ah, io sono caduto. No, dai. Allora, si può usare l'Optifine? Perché tu baravi, mi ricordo. No, anche tu lo usavi. No, sei tu che hai detto. L'Optifine si può usare. Aspetta, aspetta. E qua l'ho vista. Dove? A sinistra? Sì, però è difficilissimo. No, penso di aver trovato un modo. No, no. Lasbou. Che modo? Oh, di un blocco. Aspetta, aspetta, aspetta. L'ho vista, è nel centro. L'hai vista che è nel centro? Ah, lo so dov'è. No, non è nel centro, non è vero. Sì, sì, anche. Si può arrivare anche dal centro. Però muoio ogni volta come un nabbo incredibile. Mamma mia. Oh, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Ce l'ho fatta. No, mi ha laggato. Kendra, che cavolo. Stai barando? Ragazzi, sta barando. Avete visto tutti che sta barando? No, io ero già all'acqua, stupido. Mamma mia, quanto bari. Aspetta, Optifine. Tecnica dell'Optifine. Quasi. Ma è troppo complicato questo dropper. Oh, quello mi era più semplice. Ma va di sotto. Oh, ti ho aiutato. Grazie. Non vale, ti ho aiutato. Allora, non è quello il punto. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Sono fatta. Anch'io ce l'ho fatta. Sono qui con i miei amici orsi. Vabbè, mi sa che sto laggando. Adesso muoio di nuovo. Come fa l'orso, Kendra? Ecco. Arrivo. C'è anche Roby qua. Ciao, Roby, tutto bene? Come va? Ciao, bella faccia. Sei freddo? Io... No, ovviamente. Premi pure. Oh, ce l'ho fatta. Premi pure. Hai barato. No. Mi sei comparso davanti. Ah, è un lag. Mi sei comparso. Ragazzi. Ce l'hai Roby. Ce l'hai Roby. Roby, Roby. Premi qui per tornare indietro. Allora, orsi polari. All'attacco. Attaccatelo. Attaccatelo. No, stai andando il cucciolo. Non ti attacca. Ok, quindi sta... Due io, uno te. Ok. No, no, no. Siamo due a due. Ok, fate... Oh, ma dov'è il pulsante? Manca il pulsante. Qualcuno se l'ha rubato. Dove è il pulsante? Dobbiamo trovare il pulsante. No. Quindi dobbiamo uccidere gli orsi. Ok, prova a picchiarli te per primo. Oh, mamma. È amichevole. Oh, mamma. Non è amichevole. Mi sa che non è amichevole, porca miseria. Sta facendo le carecce. No, mi dispiace, al sopolare. Mi dispiace. Sta facendo le carecce. Vedi, non mi fa niente. Cavolazzo. Dai, dammi la chiave. Ma basta picchiare gli orsi. WWF. 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 Ma devo farlo, altrimenti loro ci mangeranno. Grande. Ce l'ho. Cosa? Cosa? Io la metto e te lo tolgo. Kenders, è una persona orribile. Non si prendono i pulsanti dagli orsi polari. Ha capito. Volevi restare lì a morire di freddo per sempre. Allora, dopo facciamo la classifica. Però per ora questo non mi è piaciuto per niente. È troppo... Non lo so. Questa faccia non la sopporto. Il più bello dei troppi. Non la sopporto. Non sopporto con quei capelli. Allora. Allora, vediamo con il signor Baffoni. Signor Baffoni. Ok. Con la paparella. Con la paparella. Dai, vediamo. Oh. Oh. È difficile. Bello. Vai, vai giù. Pieno... Ah! Pieno di minerali incredibili. No, vabbè. Ma è facilissimo. È facile questo. Ma è facilissimo. Ma hai visto che è bello? Pieno di... Ma ci sarebbe riuscito pure un canguro cieco. Pieno di diamanti, smeraldi. Allora, vediamo che cosa chiede. Vediamo. Uh, ci dà un piccone in ferro, Kendall. Ok, raccogli... Raccogli minerali giusti per uscire dal dropper. Ok. No, 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 no. Un attimo. Oro e diamanti. Ma guarda che maledetto. Non ho neanche mai aspettato, eh. Perché dovrei aspettarti? Ma vorrei che miseria. Sei proprio un maledetto. Ma io sto prendendo... Sto prendendo minerali che non servono a niente, poi, eh. Ah, infatti io non sei molto sveglio, guarda. Ti muovi, muovi, muovi. Servo oro e diamanti soltanto. È perché io devo farti da badante e anche guardare la mappa. Guardate che tolgo tutti io, guardate. Allora. Diamanti, smeraldi, ok. Piccone è quello per andare più veloce. No, 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 no. Ok, smeraldi e diamanti. Smeraldi? Smeraldi, sì. Perché tu non hai capito cosa bisogna fare. Lui sta facendo l'oro. Ah, sembra gli smeraldi. L'oro serve per avere un piccone che scava più velocemente. Ma io se prendo direttamente questi... Posso uscire più velocemente da qua. Sì, te l'ho detto io. Grazie al cavolo, bello, eh. Allora ti faccio vedere. Ti frego, ti frego tutti... Ti frego tutti i diamanti così alla fine tu? Io li ho già i diamanti. Non mi chiamo mica bella faccia. Non ne hai 20. Bisogna averne 20 per uscire. Sì, sicuro che non ne ho 20? Eh, certo. Ne hai già 20, veramente. E quanti ne ho secondo te? Secondo me stai usando i trucchi. Dopo voglio vedere nel tuo computer se hai i trucchi installati. 11, 12, guarda. Mi stai ascoltando? Ma no, come al solito. Mamma mia, ragazzi, quanto bara. È un ladro. Ma quanto sono pieno di minerali? Allora, vedi, facciamo un cambio. Ti do cose che ti mancano. Tipo? Ti do cose che ti mancano, tipo gli smeraldi. Ma in realtà ce li ho già quasi tutti. Ne ho 8. Eh, io ne ho di più. Ok, ragazzi. E quanti diamanti hai, genio? Eh, ne ho 20, ne ho 20. Ne ho già 20. Dai, dai, 15. Sei stato un po' più veloce. 15, 16, 16, 17, stai zitto? 18? Oltre ne servono. 19, te lo dico. Vai, vai a vedere te. Io non è che posso sempre. Sì, finito. Finito. Dammi, dammi, dammi. Sì, pulsante. Sì, pulsante lo metti per entrambi. Alla macchia tua, che dalle. Primo, primo. Capirai, non è la gara, grazie. Ok, stefefere, vai. Iniziamo. Vediamo qua. Quindi lo youtuber misterioso per ultimo. Eh, vuole essere per ultimo, non so perché. Ok, spawn point. Tieni, aspetta, faccio. Che bella la mappa. Faccio un po' di carità, tieni, dai. Sei barbone. Se quanti posso regalare tutto quello che ho? Tieni. Ok, va bene. Allora, vediamo. No, i gatti. Vai a morire. Ah! Sei un person orribile. Tanto mi ha messo lo spawn point. Muori, muori. Salvo. Tu mi ha perso. No, vieni su. Maledetto. Oh, guardi i joystick. Oh, no. Quasimodo, ce l'ho quasi. C'è pure il bambù. Porca miseria, ce l'ho quasi, Kendall. Sei un ladro, ti abbiamo visto tutti. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Completata. Ma c'è un sacco di TNT qua. Come mai? Che figata, ma sono i loro studi. Allora, ci sono i gatti, il bambù. Guarda qua, secondo me, Steph sta hackerando al computer. Che stai facendo? Ah, ci stanno tutti i codici qua. Bello, ma guarda che bella stanza. Guarda, guarda, scontro finale dove ho vinto io, ti ricordi? Ma c'è bisogno di fare per uscire? Per uscire? No. Ho capito. No, devi c'eroggiare. Per fortuna che il mio amico è stupido, ragazzi. Come il cavolo si fa qui? Ah, c'è il parkour. Sì, ciao, buongiorno. C'è qualcosa che non va, eh? Tu il parkour non riuscirai. Aspetta, togliti. Ci sono prima io. Oh, no. C'è se Fere che si era arrabbiata. Guarda qua come si fa il parkour. Guarda, guarda, guarda. Ti insegno io. Ma sei sempre un barone. Ti insegno io come si fa. Togliti che sarò io per prima. Ragazzi, sa solo parare questa persona. E disse quello che ha preso il blocco. Fere si sta arrabbiando. Si sta guardando malissimo, eh? Togliti. Allora, basta adesso. Allora, allora. Basta, basta, porca miseria. C'ero io per prima. Rifatti il dropper. Rifattelo, dai. No, 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 no. Sì, 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 sì. Vai, rifattelo tu, rifattelo tu, rifattelo tu. No, no, aiuta, aiutatemi. Sei un barone, un barone assurdo. Vai a leggermi i pugni. Oh mio Dio, sono già qua, sono già qua, sono già qua. Ma quanto sono belli questi gatti. Vorrei avere un gatto. Ti piacerebbe un gatto? No, aspetta. Chi faceva, aspetta, c'era una pubblicità che faceva, eh? Ho sbaglio. Adesso entro. No. Il dropper. Ah beh, barando, anche mia nonna. Anche mia nonna, eh, ce l'avrebbe fatta. Ed ecco qua. Oh mio Dio. Oh mio Dio, bella faccia. No, cosa c'è? Non lo vuoi vedere. No, 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 chiudi. No, 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 aspetta, metto lo spawn point. Li chiudo, li chiudo. Credo che sia ossessionato da te. Ma questo è il mio dropper. Sì, sì. È ossessionato da me. È ossessionato da te, lo youtuber misterioso. Ma ci sono piume, polli. Ma è bellissimo. Ma perché ti odia? Ma perché? Ma com'è bellissimo. Non hai capito? Ma forse mi ama. No, no, tu non hai capito niente. Cosa ho capito che non ho capito? Eh, che l'obiettivo finale sarà quello di uccidere i polli. Stupido. Ma ce l'ho già fatta. Ma che cavolo. Io sono indietro. Ma tu sei morto. Sono tornato indietro io. Ok, aspetta. Qui c'è qualcosa che non mi torna. Ci sono io qui, Kendall. Appunto. Ma ce la fai? Non ci credo. Cioè, era bellissimo, facilissimo e tu sei stupido e non ce la fai, eh? Ma sono qui. No, basta. Allora, abbiamo visto tutti adesso che hai barato. Senti, mi ha teletrasportato in quella di Stefano. Allora, ragazzi. Sappiamo che ho vinto io. Vediamo cosa chiede bella faccia. Dobbiamo uccidere i polli. Vediamo. Avete visto la mia gallina preferita. Si chiama Rosita. Credo che qualcuno l'abbia rapita. Che l'anima. La gallina preferita Rosita. E questo l'ho trovato. Era la più grande. Rosita. Ma è gigante. Ma è gigante. Oh mio Dio. Il visitare bella faccia. Indiscusso. Vincitore. Cosa? Vincitore indiscusso del dropper. Ma ne hai vinto uno solo. Ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto. Il vincitore è stato bella faccia. Questo dropper si autodistruggerà da un momento all'altro. Ecco, rompiamolo perché è quello che si merita. Vai dentro. Vai dentro a fare dropper. Da noi a tutti ci vediamo alla prossima spada dell'infinito. Ciao. Buongiorno. Ciao. Grazie a tutti